ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo diciannovesimo vblog di sine requie di blog più o meno perché in realtà sarà più di chiacchiere più che risposta domande ma chiacchiere rimangono e sine requie è l'argomento e io c'ho una bella maglietta di red dead redemption a dead nightmare ci avete mai giocato io sì ma non l'ho ancora finito perché poi vabbè bla 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 comunque la volta scorsa vi ho chiesto una cosa vi ho chiesto di scrivermi qua sotto nel video come se avete iniziato a giocare a sine requie per merito nostro sì o meno nel senso se avete iniziato a giocare a sine requie guardando dice games italia e a prescindere da questo cosa continua la vostra collezione era una mia curiosità anche perché sine requie con così tante espansioni permette di vedere un attimo i gusti c'è ne per tutti i gusti alcuni sono collezionisti altri sono scelgono in modo curato quello che gli piace di più quindi ero curioso di scoprirlo e siete stati in tanti a rispondere spero che quelli che ancora non hanno scritto continuino qui sotto a scrivere come hanno iniziato se con dice games italia o per conto loro perché l'hanno fatta conoscere altri e da cosa è composta la loro collezione quindi andiamo avanti e leggiamo un po le vostre domande barra risposte alla mia richiesta ok alessandro negri master grazie a voi ho comprato oltre al manuale base tre espansioni terre perdute quarto reight e sanctum imperium inoltre il caro kageisa ha usa quindi ci mancano ben pochi manuali per fare l'unplane mi dovete quindi un'altra avventura magari ambientata negli usa beh dobbiamo no però non è non è assolutamente non è che puoi ricattarci però hai una bella avete una bella collezione tra te e kageisa e terre perdute quarto reight e sanctum imperium quindi vi siete interessati di più all'europa piuttosto che passare su russia oppure regno di osiride o anche giappone e con un piccolo una piccola uscita con usa veramente un manuale che credo che sia per ora per quelli che ho letto forse il mio preferito come idea come manuale come scoperta di manuale mentre sanctum imperium per ora il mio preferito da giocare andando avanti alessandro negri per chi lo vuole sapere come diabolicus animale esiste anche un gatto nel museo di parigi dove sono state portate le mummie ora non mi viene in mente qual è ma comunque mi ricordo che esiste controlla i non morti nel museo ecco infatti qualcuno aveva già detto che no il gatto diabolicus non si trovava lì ma si trovava l'uver io non ho letto ancora il manuale delle terre perdute è uno dei pochi che mi manca evidentemente c'è un gatto diabolicus nel museo dell'uver quello di cui parlo io invece si trova nel tomo dei morti volume 2 con i morti coscienti quindi gli abomini gli inshi si mi sto a confondere tra vampire e un attimo ragazzi che sto continuando a giocare a vampire quindi come master del live quindi è un casino e poi ovviamente i diabolicus oltre alla tozza comune andando avanti royal with cheese tarocchi più base io il tarocchi è una di quelle cose che non sono ancora riuscito a recuperare e me ne pento amaramente perché non era tra i necessari quindi non è stata tra le prime cose che ho deciso di prendere perché non avevo bisogno dovendo giocare in rete e me ne mangio le mani comunque royal with cheese tra l'altro una bella immagine proprio un bel panozzo tarocchi più basico ovviamente manuale base più sanctum più terre perduti e oggi il soviet si aggiunge si è un gioco che cambia molto a seconda dell'ambientazione e la cosa mi piace molto sono completamente d'accordo con te infatti ogni ambientazione è una una fetta di questo gioco quindi prendere manuale base ti permette di giocare in maniera generica a le ambientazioni principali terre perdute soviet quarto right e sanctum imperium perché sono contenute e descritte in maniera sommaria già nel manuale base ma è vero che ognuna di queste ambientazioni più tutte le altre uscite ognuna mostra una parte diversa del gioco e quindi sono stili diversi di gioco diversi stili di gioco diversi e proprio un approccio completamente cambiato quindi si può variare molto nello stesso gioco ed è una cosa veramente bella e sono quindi d'accordo con royal with cheese luigi grasso vedendovi giocare dopo anni da giocatori di dnd sto per cominciare una campagna su cine reque ho un nuovo gruppo e molti di quali non hanno mai avuto a che fare con jdr qualche consiglio su come dovrei comportarmi con questi giocatori pensi sia sbagliato farli partire con questo gioco una bella domanda perché l'ho già spiegato in altri blog ma sparsa quindi la ripeto senza problemi qui secondo me e ricordo che è sempre secondo me cine reque è tosto per iniziale per un semplice motivo non è un classico non è un classico sistema non usa i dadi usa le carte quindi può essere strano ma se è la loro prima esperienza e soprattutto sono appassionati di non morti zombie ma che qui ovviamente non si chiamano zombie di non morti e di diciamo che il periodo dell'ambientazione gli piace veramente tanto gli affascina iniziare con cine reque piuttosto che in un altro è uguale di ambientazione anzi se gli piace ovviamente è meglio iniziare con l'ambientazione che piaccia come regole cine reque si piazza in una classifica ipotetica molto generica che sto buttando lì in questo esatto momento complessità di regole è un livello medio alto ci sono diverse regole è abbastanza tattico permette un gioco quindi variegato non è facile è punitivo come sistema quindi è bello per i veterani che si sono stancati del super pg di dnd dungeon world o comunque quei giochi super eroistici dove il proprio personaggio diventa comunque un eroe quindi è veramente enorme o di giochi anche come anime sangue ma anime sangue parte dal presupposto che tu sei un gozzone enorme non a caso sei uno spirito quindi cine reque è una scelta interessante per iniziare non è tra le più facili come sistema di regole apocalypse world dungeon world sono giochi molto più semplici come sistema di regole tiri 2 di 6 da 1 a 6 fallisce da 7 a 9 successo ma non tutto va come dovrebbe dal 10 in su successo è semplicissimo e ti ho spiegato il sistema di regole mentre cine reque mi metta un sistema di regole molto più variegato ok allora stiamo dicendo sì devo mettere tra l'altro di dire eh quindi cine reque vale come scelta per iniziare a giocare di ruolo perché è interessante ti riesce a immedesimare poi comunque prende un po' dalla nostra storia non recentissima ma tutti in un certo qual modo conoscono la seconda guerra mondiale dell'ambientazione quindi è una scelta interessante non la scelta più semplice quanto a sistema di regole e ambientazione banalmente non sono i 2 di 6 di dungeon world e non è il fantasy ingegnere con di un dungeon world o di un dnd dove si può iniziare molto facilmente perché c'è un nano c'è un orco c'è un elfo prendi insieme comunque è facile qualcosa che puoi subito capire quindi è una scelta coraggiosa ma personalmente la ritengo un'ottima scelta perché se si inizia senza nessun pregiudizio il sistema delle carte lo si può ancora capire e può essere interessante per giocatori neofiti che non hanno mai usato il lancio di dadi però le carte di solito tutti hanno giocato a carte in un modo o nell'altro quindi è più facile da un certo punto di vista capire il sistema delle carte dei tarocchi meno ma delle carte con seme sì ovviamente ti consiglierei di andare con un sistema quello più tecnico quindi i tarocchi minori i tarocchi maggiori per una mera questione di non buttarli già troppo nel solo interpretativo perché rischi di spaventarli un attimo per quanto è strano comunque cioè il gioco di ruolo potrebbe andare solo di interpretazione con pochissime regole ma è innegabile che giocatori neofiti ho notato preferiscono sistemi un po' più tecnici preferiscono sistemi più tecnici di base o comunque dove le cose sono chiare cioè da qualche parte puoi andare a leggere per capire cosa succede mentre giocatori più veterani apprezzano di più i sistemi interpretativi con magari poche regole ovviamente alcuni tipi di veterani ci sono sempre molte categorie nel gioco di ruolo ragazzi come in tutti i giochi come in tutti i settori ci sono sempre sbariate tipologie di giocatori o comunque persone appassionate di quel lobby quindi è un'ottima scelta coraggiosa ti direi bocca il lupo in bocca al lupo così magari ci sarà qualche fortuna per iniziare non sto dicendo delle cose sensate comunque hai chiesto qualche consiglio su come dovrei comportarmi con questi giocatori spiegagli l'ambientazione falli entrare e immedesimare dentro questo gioco dagli molte informazioni sull'ambientazione fagliela immaginare in testa devono averla ben precisa in testa dei piccoli riassuntini delle spiegazioni approfondite per ogni cosa ovviamente è più lavoro per te ma necessario per dei giocatori neofiti serve per fargli vivere l'ambientazione dopodiché buttali dentro e fargli provare gradualmente non iniziare con qualcosa di troppo complicato inizia poco alla volta inizia passettina per passettina poi valuterai e vedrai com'è lo stile dei giocatori capirai come loro si adattano al gioco magari non gli piacerà o magari gli piacerà tanto è anche questa la scoperta con giocatori nuovi a quel punto potrai capire come gestirti la situazione quindi se sei ancora all'inizio ti direi prova e dai tutte le informazioni possibili e immaginabili per fare questo primo tentativo dopodiché valuta com'è andata e adattati andando avanti Luxor von Kostel Master io non ho letto il tomo dei morti però il gatto diabolicus che io sappia all'interno del Louvre forse ti sei confuso no come ho già spiegato prima anzi come prima ha già aggiunto Alessandro Negri non mi sto confondendo sono due gatti diabolicus uno a Louvre e uno in questo paesino descritto nel tomo dei morti volume 2 quindi sono proprio due animali separati ci sta quindi ti consiglio di leggerti il tomo dei morti volume 2 perché ci sono delle interessantissime storie per ampliare la visione dei morti intelligenti, coscienti Kageisa io ho iniziato a giocare a Sine Reque grazie a voi e il mio master Alessandro Negri possiedo Sine Reque Sine Usa quindi come prima ho detto ottimo acquisto Kageisa se te lo sei letto e sei il giocatore però hai fatto una gran cazzata per un semplice motivo l'ho già spiegato nella mia recensione di Usa Usa è un manuale che deve avere solo il master e di cui deve centellinare ogni informazione perché Sine Reque Usa è un manuale geniale ma per un certo suo aspetto che è il più interessante forse del gioco è one shot un solo colpo bruciato una volta non lo puoi più fare cioè non hai più quel piacere di quella scoperta di scoprirlo però deve arrivarci se sei un giocatore te lo anticipi te lo bruci ed è una cosa orribile quindi spero che tu non l'abbia letto e se l'hai letto mi dispiace perché ti sei bruciato una delle storie più fighie ideate da Matteo e Leonardo ma spero che non sia così Alex Rubino Master grazie a voi ho cominciato ad interessarmi a Sine Reque e ho acquistato tutti i manuali e mancano solamente Vozeneur dell'abisso locausto di terrore e occhi del serpente che sono in arrivo oh mio dio l'hai trovato tutti alcuni di questi che io sappia erano quale produzione con questo sto terminando di leggere con questo sto terminando di leggere trollo di Crisantemo mi chiedevo cosa ne pensi di questa espansione io personalmente lo adoro immaginavo un'ambientazione del genere ma sono rimasto piacevolmente colpita da ciò che si trova di Hiroshima e anche tutto ciò che riguarda le presenze le presenze in Giappone i vari sistemi dei villaggi punto a masterare una campagna ma ancora sto cercando validi giocatori nella mia zona precisamente Osta se qualcuno fosse interessato mi contatti contattate Alex Robino zona Val d'Aosta a Osta più precisamente che è in cerca di giocatori il gatto di Ebolicus è presente nel manuale terre perdute si trovano in museo del Louvre i poteri del gatto sono di controllare le persone e i morti e di generare il proprio rigenerare il proprio corpo l'altro gatto di Ebolicus è quello detto da lei master consiglio molto di comprare terre perdute con questo chilometro messaggio saluto e aspetto una sua risposta barra opinione master però nel Crisantemo non vedo l'ora di farci la recensione e sì mi è piaciuto veramente tanto anche a me sinceramente ero un po' titubante perché il Giappone è sempre una di quelle cose che ormai va di moda fare qualcosa su un Giappone ma il rischio è sempre di farci qualcosa proprio di puro fan service non è così sine requ il trono di Crisantemo è un bellissimo manuale e ci catapulta in questo Giappone che durante questo sconvolgente evento come il risveglio dei morti lo combatte regredendo un po' come Sanctum Imperium ma in una maniera ancora più marcata da un certo punto di vista torna proprio in una versione torna alle tradizioni della società giapponese e la società giapponese la cultura giapponese è impregnata di storie sui demoni sugli oni sulle presenze sui spettri le varie creature magiche hanno una marea di cultura e comunque cultura popolare sotto che è un terreno florido floridissimo su cui Matteo, Leonardo gli autori hanno potuto creare il loro manuale ed è molto bello leggere le varie parti le contraposizioni l'ipocrisia in alcuni aspetti ha degli aspetti veramente interessanti il manuale di Sinari che trovi di Crescentemo ma non vorrei troppo spoilerare perché appunto vorrei fare una recensione e l'ambientazione tu chiedi Alex quello che si trovava a Hiroshima molto interessante ho apprezzato anche comunque l'intenzione comunque di utilizzare Hiroshima si poteva benissimo passare oltre e dire no no Hiroshima non la consideriamo perché è un brutto capitolo comunque della storia contemporanea non contemporanea moderna si è giusto è moderna è considerata va bene comunque quello lì per la conclusione della seconda guerra mondiale è considerata una brutta pagina di storia ma gli autori che fotte sega l'hanno fatto e hanno piazzato a Hiroshima qualcosa di veramente interessante oddio io ho ancora di più adorato l'idea del folle governante di Hiroshima non posso entrare troppo nei dettagli ma è folle ma è geniale allo stesso tempo e questo poi si riflette nelle ultime pagine di racconto del manuale Trono di Crisantemo che ho apprezzato tantissimo dal lettore di Lovecraft ho apprezzato tantissimo altra cosa la presenza le presenze sono veramente interessanti come sono viste e tutti i segreti cioè in Giappone la presenza di morti senzienti e presenze è molto maggiore che in altre parti del mondo e sono state sfruttate queste cose per creare tutte delle varie situazioni e i villaggi è veramente interessante non vedo l'ora di arrivare a recensire questo gioco perché l'ho apprezzato tantissimo mi è piaciuto veramente tanto ed è molto ricco da un certo punto di vista sebbene riconosca che non tutti potrebbero apprezzare lo stile perché il Trono di Crisantemo signale il che è incentivato il giocare dei non morti senzienti alcuni potrebbero non trovarci trovarvisi in quello stile quindi alcuni potrebbero comunque non apprezzarlo apprezzarlo molto come storia ma non come tipologia di gioco che viene richiesta ma questo ovviamente varia molto dipende anche dal master come tratta l'argomento mi ha dato semplicemente questo piccolo piccolo dubbio che appunto non tutti magari vorrebbero giocare come non morti ok grinder dice solo una parola molto prenazificato soviet probabilmente ha preso solo l'ambientazione di soviet penso l'espansione soviet perché è rimasto veramente interessato da quell'espansione e ricordo che i manuali di senere anche presi a sé le varie espansioni sono molto belli e sono chiusi nel senso sono chiusi sono non non hanno necessità di avere anche tutti gli altri tutti gli altri manuali per capire l'ambientazione parlo tutti gli altri manuali con l'ubase spiega le regole spiega alcune cose ma non non ti dice non è necessario se vuoi solo leggerti l'espansione le altre espansioni non c'entrano quasi mai nulla e se ci sono delle relazioni sono cose piccoline piccole relazioni diplomatiche ma sempre qualcosa di non così enorme che quindi costringa a prendere per forza anche un altro per capire parte della storia della prima ambientazione che hai preso quindi soviet è stata la scelta di Hawk Grader e credo che sia abbastanza soddisfatto visto che la scrive sta a padello Mogul Master io e il mio gruppo abbiamo cominciato a giocare a senere che proprio grazie a DJI e grazie ad alcuni risparmi che avevo abbiamo tutti i manuali wow più che altro io ed un altro stiamo tentando di ricostruire il macro plot dietro diciamo la storia nascosta in tutti i manuali e in effetti non mi dispiacerebbe neanche mai scoprire ma purtroppo non ce li ho ancora tutti neanch'io e quindi mi manca mi mancano mi mancano e devo anch'io scoprire la macro trama tutti i vari aspetti della macro trama di Sineleque che sono nascosti in ogni manuale Tommaso Galluzzi se non l'hai già preso ti consiglio di prendere il manuale delle terre perdute lo so me lo state consiglando in tanti devo prenderlo ma data la campagna della tomba Maginò penso che lo possiedi già no la tomba Maginò l'ho fatta basandomi sulle informazioni che c'erano nel manuale base niente di più niente di meno anche per questo l'ho ambientato in una zona completamente sperduta credo che sia più notivo ma divertente dato che non hai limitazioni di nessun tipo alcune limitazioni ci sono perché il mio gruppo è peggio del DJI oh cazzo è difficile eh e ci si può infilare un sacco di easter egg sciacallaggio precipite precipitevolissimamente dei canononi brulli in allegria oh mio dio sciacallaggio precipite pre sciacallaggio precipitevolissimamente dei canononi brulli in allegria l'ho detto tutte insieme e ti odio Tommaso Belluzzi ricordalo terre perdute probabilmente è uno dei prossimi manuali che vedrò di recuperare visto che tutti me lo consigliate e in effetti ci sono alcune chicche che sono interessato relic jager master il bundle di cui parli purtroppo è esaurito e purtroppo ma non ti mette il mondo GDR fa spesso e volentieri dei bundle o comunque dei pacchi con vari prodotti di sine lecque di altri giochi quindi è solo questione di tempo e ci sarà un nuovo bundle probabilmente lo condivideremo anche sulla nostra pagina di facebook quindi seguita la nostra pagina di facebook se volete rimanere aggiornati su tutte queste notizie riguardanti i vari giochi di ruolo quando ce le contattano quando ce le passano i vari editori siamo più che felici di ricondividerle alvi 9223 e la cartomante grazie DJI ho scoperto sine lecque io ho preso base più scarbo più tarocchi vero c'è anche lo scarbo che non ho mai io gli schermi abbiamo un brutto rapporto non mi sono mai particolarmente piaciuti però alcuni li apprezzano e sicuramente con tutte le tabelle dietro è comodo quindi in effetti perché non ce l'ho comunque stavo dicendo base più scarbo più tarocchi tomo dei morti volume 1 e 2 sangotum imperium e quarto light a breve verranno acquistate pure tutte le altre espansioni complimenti alvi hai proprio voglia di prenderle tutte diciamo che sei uno che ha apprezzato decisamente sine lecque e tomo dei morti volume 1 mi manca ancora quindi è uno degli altri in realtà me ne mancano comunque diversi è uno degli altri volumi di sine lecque che devo recuperare assolutamente il commentatore 97 la tenia si attacca all'intestino non allo stavoco c'hai ragione hai perfettamente ragione in effetti si attacca sulle pareti dell'intestino che sono migliori per nascondersi per batteri che si aggrappano e si nascondono già infatti ce ne sono già tanti di per sé rau si base scarbo tarocchi e santum il tarocchi è già in tarocchi il santum imperium è molto apprezzato ed ora sono indeciso tra terre perdute e usa sei un giocatore prendi terre perdute sei un master prendi usa questo è il mio consiglio personale se sei un giocatore prendi usa ti bruci quella cosa che non posso dire se sei master usa una chicca terre perdute è più nel senso più semplice è meno spoiler spoilerata nel senso si può giocare più facilmente quindi dipende tutto sei un master o sei un giocatore non mi sono spiegato bene su questa cosa giocata facilmente ma chi se ne frega AND 3419 mamma mia ragazzi con tutte ste cifre che cos'è il pin cartomante no sorry ho cominciato con sine per colpa del mio vicino di casa fissato con il posto apocalittico beh l'importante è aver iniziato a giocare sine requin ma devo dire che grazie a voi ho iniziato vampire non è l'argomento ma ok adesso è contento i manuali li ho tutti tranne quelli delle terre perdute del trono di chrisentimo ed è qui che parte la mia domanda master nel soprecitato libro sull'oriente ci sono samurai e ninja non morti perché se è così mi ripudierò di comprarlo beh allora sì ci sono sì e no i samurai nel sine requin trono di chrisentimo i samurai possono essere solo persone vive tutti i non morti coscienti che lavorano che seguono il dettame del trono di chrisentimo quindi dell'imperatore del giappone sono chiamati ronin quindi sono costretti a vagabondare non hanno patria sono costretti sono combattenti che devono vagabondare tra un villaggio e l'altro ed eseguire dei compiti ed eseguire dei compiti per i villaggi e seguire il dettame dell'imperatore i ninja i shinobi meglio meglio termino un po' più corretto è shinobi se non sbaglio sono invece quasi tutti umani ma ci sono anche lì alcuni non morti come ho detto in sine requin trono di chrisentimo la presenza di non morti coscienti è altissima quindi è molto facile trovare vari non morti coscienti in giro la maggior parte diversi lavorano sono diventati ronin e quindi lavorano per per il trono di chrisentimo alcuni sono anche ninja shinobi per questioni particolari non voglio anticiparti troppo ma se questo ti allontana dal libro in realtà no fermati fermati perché è il punto focale ed in realtà è la cosa più bella cioè sono stati strutturati molto bene ed è molto interessante anche la distinzione tra samurai e ronin tra quello che possono fare i samurai e quello che possono fare i ronin e chi non possono fare tutta la tradizione e comunque anche le le usanze giapponesi riadattate per questo post apocalittico veramente bello e quindi te lo consiglio nonostante tutto e non farti bloccare dalla possibilità di trovare ronin o shinobi non morti anzi i ronin sono tutti non morti marco dal lo dal o grazie a sidere ho avuto la fortuna di conoscervi oh quindi contrario meglio ancora stavo cercando su youtube info e recensioni sul gioco e sono incappato nel vostro canale mai giorno fu più funesto immagino comunque già da qualche anno che faccio la collezione dei manuali non hai scritto per caso quali hai già preso ero curioso emiliano sparaco 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 comunque è l'ultima domanda quindi leggiamola ho cominciato a giocare e acquistare signe requie viste le recensioni ottime di cui godeva e per sostenere il buon gdr italiano hai fatto benissimo diciamo che voi invece mi avete dato modo di riprenderlo usare questi blog per far venire la curiosità ai miei amici barra colleghi ho tutti i manuali ad eccezione del giappone che acquisterà a breve e il regno di osiride perché proprio non sono attratto dai faraoni e l'egitto master che dici sto facendo una stupidata amo usa e terre ma è maledetto youtube che mi interrompe le cose quindi non so cosa mi avete scritto e io mi inquieto e poi dico mio dio che cosa mi hanno scritto beh non sono così disperato però mi dispiace non poter leggere tutta la risposta dove 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 ah ma c'era una domanda che mi che ho saltato adesso torniamo subito allora amo usa e terre per tutti più di tutti anche prima della russia e germania sì questa è la mia top four quindi usa terre perdute soviet e quarto reich questa è la tua top four mentre come detto trovo di crisantemo ve lo consiglio soprattutto come lettura anche solo come lettura merita assai potresti vederlo come un buon libro per assurdo mentre il regno di osiride beh è caratteristico i non morti e l'egitto hanno sempre avuto un rapporto molto stretto nell'antichità e il manuale di regno di osiride non fa che puntare in quella direzione ma se proprio non ti piace l'egitto non ci puoi fare nulla è ricco di particolarità il manuale sinerequi e il regno di osiride ed è una tipologia di gioco completamente diversa rispetto a tutti gli altri manuali che possedi quindi non ti dico devi assolutamente averlo ma che forse ci dovresti fare un pensiero perché da un punto di vista e un diversa tipologia di gioco molto diversa da tutto il resto e quindi qualcosa che potrebbe anche rinfrescare dopo un po' che ci giochi con qualcosa di ancora diverso citando uno degli altri delle altre persone che hanno scritto qui sotto ogni espansione è come se fosse un gioco a sé quasi praticamente lo è Alessio Rossi che avevo saltato mi dispiace non volevo saltarti per me è stato il contrario ho scoperto DJI mentre cercavo sul tubo gente che giocava a cine no aspetta no non l'avevo letta mentre cercavo sul tubo gente che giocava a cine io ho tutti i manuali lo schermo del cartomante i tarocchi e le miniature ah parli delle due parra tre non mi ricordo quanto erano fatte uscire due o tre le tre miniature quelle del quello del nazista e quelle del del matto mi pare belle una tiratura limitata che è uscita poche volte quindi non tutti la possono possedere maledizione e poi pian piano tutte le espansioni poi quando ho sentito dire al curte che l'olocausto che l'olocausto di terrore era esaurito ho preso tutte le avventure di due tomi per sicurezza per avere perché vi ha paura di non recuperare qualcosa beh è fatto bene io mi sto mi sono mangiato le mani perché comunque ho sentito che l'olocausto di terrore è esaurito magari però da qualche parte lo trovi ancora passiamo alla domanda secondo te a modena uscirà un nuovo manuale qualcosa sull'onda dei tomi magari no non uscirà niente per quanto ne so detto anche proprio dal da Leonardo a modena non dovrebbe uscire nulla di Sinerequi si vogliono concentrare per Luca dell'anno prossimo con uscita e probabilmente è Sinerequi e Molise e io lo so e quindi non non usciranno con nulla per modena almeno questo fino a una settimana fa più o meno quando l'ho sentito che mi ha detto che probabilmente no non si farà nulla perché vogliono concentrarsi per Luca dell'anno prossimo Luca 2015 quindi nope ma avranno un sacco di roba e probabilmente se vogliono saltare Modena beh vuol dire che quello che uscirà a Luca sarà tanta tanta roba tanta tanta roba quindi spero che voi continuate a lasciarmi qui le vostre domande sull'ambientazione o chiedermi i vostri pareri o darmi i vostri pareri su quale vi è piaciuta di più cosa vi è piaciuta di più quale cosa magari non vi è piaciuta di Sinereque o l'avreste fatta in un modo diverso ma così Kurt e Leonardo possono arrivare e trovare degli haters perché noi tutti vogliono gli haters lasciatemi qui comunque in descrizione non in descrizione in commento anche se non avete ancora risposto quali giochi quali manuali di Sinereque avete preso e se Sinereque l'avete conosciuto grazie a noi di Dice Games Italia o lo conoscerete già per altri motivi noi ci vediamo nel prossimo video sono veramente contento di di tutte le domande che mi fate o comunque della risposta che mi date quindi noi ci vediamo nel prossimo video non vedo l'ora ciao a tutti bugai ciao a tutti